Siamo qua con Eric Gobetti, storico Florence, esperto di storia della Jugoslavia, resistenza e fascismo e autore del libro Allora le foibe, che abbiamo intervistato qualche giorno fa in occasione della giornata del ricordo e a cui come associazione 31 settembre vogliamo offrire tutta la nostra solidarietà in seguito alle minacce che ha ricevuto. Eric, vuoi raccontarci che cosa è successo in questi giorni nel periodo tra la nostra intervista e la giornata attuale? Sono stati giorni difficili, in parte era preventivabile, in parte sono rimasto un po' colpito dalla violenza delle aggressioni, per fortuna solo verbali, anche a causa del Covid, quindi sui social network, che sono un po', io credo, la conseguenza di un clima di odio e di ingiurie creato da una serie di testate giornalistiche di estrema destra, lo stanzialmente, che hanno creato proprio un clima che in qualche modo ha permesso questo tipo di violenza. Comunque cosa è successo? Lostanzialmente nei giorni tra il 9, il 10 e l'11 febbraio, quindi intorno al giorno del ricordo, i miei profili social sono stati colpiti da una serie di interventi, in parte di offese, ingiuri e di vario genere, ma anche con minacce esplicite insomma, che adesso sono preferito non ripetere, che in parte hanno colpito anche i miei figli, quindi i riferimenti ai figli in particolare li ho trovati molto pesanti e molto preoccupanti. Il mio lavoro, il mio libro e in generale il mio lavoro sono il frutto di tanti anni di studio, ma anche sono in qualche modo il frutto del lavoro di tanti colleghi che hanno lavorato su questi temi, su Foi, Bellesodo e la complessa vicenda del confine orientale. A quanto pare per molti, soprattutto appunto per una parte politica, parlare di storia in quelle giornate non è accettabile. Cosa devo dire che più mi ha colpito è il fatto che a quanto pare sembra inaccettabile far presente che ci sono state anche altre vittime, oltre alle vittime italiane. Forse questo è l'aspetto che io trovo più sconcertante, nel senso che io faccio proprio un discorso di pietà, cioè io dico se vogliamo essere umani e ricordare umanamente le vittime di quelle vicende, è giusto naturalmente provare pietà rispetto per le vittime italiane, ma siccome pochi giorni prima o pochi giorni dopo sono state uccise altre vittime, altrettanto innocenti e inermi, ma erano jugoslave e vengono uccise non dai partigiani comunisti in questo caso, ma invece da eserciti o fascisti o nazisti, mi pare corretto, ricordando quella vicenda, ricordare anche queste vittime. Non solo queste naturalmente, ma anche queste che fanno parte della stessa stagione di violenza. Io non riesco a capire che cosa ci sia di così ingiusto e di così condannabile in un'affermazione del genere. Invece a quanto pare è proprio questo che manda su tutte le furie chi vuole ricordare solo le nostre vittime e quindi vuole dare un'impronta nazionalista, in qualche modo anche neofascista, a questa ricorrenza. Volevamo farti una domanda, avere la tua opinione a riguardo. Credi che proposte di iniziativa popolare come quella di Stazema possano in qualche modo persuadere le persone a non commettere atti del genere, come ad esempio le minacce che hai ricevuto? Io mi auguro di sì, sicuramente credo che ci sia un po' un vuoto legislativo in questo ambito. Bisogna che il web abbia delle regole che sono sia le regole, diciamo, di normale civiltà, quindi di rispetto reciproco, ma anche delle regole legislative, cioè delle leggi che ti consentono di difenderti nel momento in cui sei offeso, ingiuriato o addirittura minacciato. In questi giorni sto rivolgendo una serie di avvocati per chiedere consigli e per capire come muovermi e mi pare che ci sia un problema. C'è un problema però direi a monte, che è un problema culturale e che non ha, secondo me, soltanto a che fare con i lioni da tastiera, come si suol dire, cioè quindi quelli che dal loro divano, diciamo, si permettono di insultare chiunque a destra manca. Ma ha a che fare, devo dire, con un mondo culturale che rende possibile quell'odio. Queste testate, questi giornali, questi continui articoli di ingiuri nei miei confronti, che sono semplicemente appena poco meno offensivi, cioè giusto il minimo per non essere querelati, però di fatto le accuse sono sempre le stesse, tendenziosità, negazionismo, non è un vero studioso, tutto questo genere di cose che di fatto consentono poi, creano un clima di odio che consente poi i lioni di tastiera di scatenarsi. Quello, secondo me, in qualche modo va anche colpito, perché non è ammissibile che uno studioso non possa fare il suo lavoro liberamente. Di nuovo a nome dell'associazione Arci 31 Settembre, che esprimiamo la nostra solidarietà, mandiamo anche un grande abbraccio virtuale, è stato abbastanza scioccante leggere sui giornali quello che ti è successo. Io sono sempre molto aperto alle critiche, non credo che il mio libro sia perfetto, credo che sia ampiamente discutibile e criticabile, quindi non ho nessun problema verso le critiche di qualunque genere, però devono essere critiche civili e basate sui fatti, sulle fonti, su dati concreti. Accuse, offese, insulti e minacce non sono accettabili. Non voglio fare la vittima, però è questo il concetto di fondo. Tra l'altro la maggior parte di questi insulti vengono da persone che dichiarano esplicitamente di non aver letto il libro, di non conoscermi, di non voler avere niente a che fare con me. Dunque, se non sai nulla di me e non hai letto neanche una riga di quello che ho scritto, come puoi permetterti di criticare.